Ma l'attacco dell'Inter è veramente da completare sul mercato? Oggi proviamo a rispondere a questa domanda che ormai da settimane infiamma tutte le chat dei tifosi dell'Inter, compreso il club di Passione Inter, visto che in attacco ci si aspetta qualcosa, soprattutto in uscita. Abbiamo inseguito per tanto tempo Paolo Di Bala che purtroppo alla fine ha deciso di accasarsi alla Roma e il tema attacco dell'Inter è molto caldo, fra chi dice l'attacco è completo così e chi dice no, attenzione, ci accorgeremo durante l'anno che ci manca qualcosa e quindi è meglio intervenire subito. Proviamo oggi a fare una piccola analisi, vi dirò la mia opinione sul tema e poi alla fine dell'episodio vi lancerò una provocazione come classico di Passione Inter e quindi vi chiedo di seguirmi fino all'ultimo così poi mi fate sapere nei commenti sul tema in generale e sulla provocazione che riguarda un giocatore molto chiacchierato attualmente nell'Inter. Però prima facciamo un passo indietro, vediamo come attualmente è composto l'attacco dell'Inter e cerchiamo di capire, ripeto, sulla base della mia opinione, se davvero è necessario intervenire ancora sul mercato oppure no. Ben ritrovati quindi amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto oggi, ci focalizziamo sull'attacco nonostante la difesa rimanga ancora tra Skriniar, Milenkovic e tutti gli altri, forse il punto più caldo del mercato dell'Inter, però anche in attacco, come dicevo, si muove qualcosa e quindi oggi parliamo di questo. Allora, io partirei mettendo subito un punto, ovvero come è composto attualmente l'attacco dell'Inter e come vorrebbe che fosse composto all'allenatore Simone Inzaghi che nella conferenza stampa di apertura della stagione ha dato una indicazione molto chiara. Ha parlato di quattro attaccanti molto affidabili, pronti, tutti già a posto diciamo, e un quinto giovane da poter aggiungere e al quale poter dare un pochino di minutaggio, chiaramente compatibilmente con il valore degli altri quattro. Come è composto attualmente l'attacco dell'Inter? Quindi, due titolari top e li abbiamo Lautaro Martinez e Lukaku, la Lula che partirà ovviamente sempre come titolare. Due riserve affidabili e li abbiamo Edin Dzeko e Joaquin Correa, ma fra poco ci torno perché so che qualcuno qui avrà già iniziato a storcere il naso e lo capisco, ma dopo approfondiamo. Il quinto giovane attualmente ci manca perché l'Inter comunque aveva Esposito, aveva Satriano, tutti i giocatori che sono stati, secondo me, giustamente mandati via in prestito. E poi, appunto, attualmente ci sono Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti che però sono in uscita. Questa è attualmente la composizione dell'attacco dell'Inter. Adesso facciamo delle considerazioni sparse con le quali proverò a spiegarvi come la penso io sul tema. Allora, per quanto riguarda la Lula, lo sappiamo, titolarissimi e dall'attacco dell'Inter quest'anno ci si aspetta un ulteriore salto di qualità. Non dimentichiamoci che l'anno scorso l'Inter è stata comunque il miglior attacco, nonostante i problemi chiari e certificati che abbiamo notato tutti, però è stato il miglior attacco. Quindi si parte comunque da un livello molto alto che Lautaro Martinez e Lukaku in coppia devono cercare di alzare ulteriormente. In che modo? E' stato cercando di fare, innanzitutto, se possibile, qualche gol in più, ma soprattutto trovando un'intesa migliore reciprocamente e andando a colpire nei momenti e nelle partite decisive, che sono state, secondo me, il grosso problema dell'Inter dell'anno scorso e che ci hanno impedito di vincere lo scudetto. Quindi i momenti decisivi, le partite decisive, quelle in cui si è pareggiato, si è perso e si è fatti 40 tiri contro magari i 5 dell'avversario, ecco, lì non si può più pensare di non vincere, ecco, diciamo così. Dzeko e Correa, e qui ci dobbiamo un attimino fermare, perché so già che, rispetto a quello che ho detto un paio di minuti fa, qualcuno giustamente avrà già iniziato a storcere il naso e, come dicevo, lo capisco. Per Inzaghi, ragazzi, Dzeko e Correa sono due riserve affidabili. Che ci piaccia o che non ci piaccia, il nostro allenatore li ritiene affidabili, altrimenti avrebbe cercato di spingere per intervenire ancora sul mercato in attacco. Invece, come avrete notato, dall'arrivo di Romelu Lukaku in poi, Inzaghi, anche nel momento in cui si parlava con grande insistenza di Paolo Di Bala, ha sempre fatto intendere che lui più o meno era a posto, cioè non richiedeva necessariamente un intervento ulteriore in attacco, come invece ha richiesto a chiare lettere in difesa, poche ore prima, purtroppo, della Beffa Bremer, che poi ha fatto anche risaltare in negativo quella dichiarazione del mister che faceva chiaramente riferimento a Bremer, il quale poi però dopo è andato alla Juventus. Quindi, che ci piaccia o che non ci piaccia, Inzaghi li ritiene affidabili e la società ovviamente giudica sulla base delle sue sensazioni e anche dell'opinione del suo allenatore, non dei tifosi. Per fortuna, e mi ci metto in mezzo, chiaramente. Lo sono al 100%, sono due giocatori affidabili senza ombra di dubbio? Dire di sì è difficile, perché entrambi hanno le loro problematiche, tra virgolette, ma secondo me, proprio questa leggera incertezza che fra poco, nella quale fra poco andiamo ad approfondire, è... la società ha valutato di coprirla proprio grazie alla scelta di Lukaku. Quando l'Inter ha deciso di andare su Lukaku e non su Dybala, secondo me ha fatto anche questa considerazione, cioè io avrò due riserve, Dzeko e Correa, che sono buoni giocatori ma non sono affidabili al 100%. Per questa ragione, se devo investire una fish importante in attacco, io la devo mettere su Lukaku e non su Dybala, che è un giocatore forte, è un giocatore che sicuramente avrebbe fatto molto bene nell'Inter, ma non è così decisivo e probabilmente non è così né prolifico dal punto di vista di gol, né soprattutto affidabile dal punto di vista fisico, come il Belga. E quindi l'eventuale acciacchino di Correa o l'eventuale calo di forma a metà stagione di Dzeko, cosa già vista e quindi nulla di nuovo, vanno coperte grazie all'arrivo di Lukaku, che oltre al suo, probabilmente la società ha ragionato dicendo mi farà anche quel qualcosina in più che mi permetterà di non risentire dei problemi degli altri due. Capitolo Correa. Io qui voglio dire due cose, e non è la prima volta che le dico, soprattutto la prima, quindi le vado a ribadire. La prima cosa, Correa è un giocatore forte. Io capisco che tanti tifosi l'abbiano un po', se l'essero un po' legata al dito la stagione scorsa di Correa, perché magari si aspettavano tanto, o comunque si aspettavano di più rispetto al poco che ha fatto. Però Correa è un giocatore forte, è un giocatore che gioca nella Nazionale Argentina, molto più di Dybala, per fare un altro nome, è un giocatore su cui l'Inter ha valutato, diciamo a torto o a ragione, di investire circa 30 milioni di euro, e seconda cosa che si collega alla prima, è assolutamente legittimo che l'Inter lo voglia rivalutare, e lo voglia riproporre. È stato un investimento importante per un giocatore, che ripeto, è di buon livello, poi che sia da Inter lo vedremo, e probabilmente lo vedremo in questa stagione, perché mi auguro che abbia modo di trovare continuità. Però è legittimo che l'Inter lo voglia rilanciare, e quindi è legittimo, e non è secondo me scandalosa, tra virgolette, la gestione che l'Inter ha deciso di tenere nella, tra virgolette, ballottaggio Correa-Dibala. Cioè buttare via Correa, buttarlo nell'umido, regalarlo in giro per arrivare a Dybala, secondo me era un errore. Qualora si fosse trovata la possibilità di incastrare le cose, ok, anche io ho sempre detto Dybala, me lo porto a casa senza problemi. Però neanche buttare via completamente Correa, secondo me era la scelta ideale. E infatti l'Inter ha deciso così. Gli ultimi due nomi di cui abbiamo parlato prima. Pinamonti, prima cosa, molto veloce, andrà via, lo sappiamo, ha ricevuto tante offerte, è l'ultima addirittura, in ordine cronologico, dalla Salernitana, che ha offerto 20 milioni di euro, l'Inter ha accettato subito. Lui attualmente non sembra molto deciso, ma lo vedremo, comunque in qualche modo verrà ceduto. L'unico appunto che mi sento di dire, cerchiamo di non scendere sotto i 18-20 milioni di incasso, perché quando vedi che poi Scamacca se ne va per oltre 40 milioni, compresi i bonus, o comunque vedi cifre di questo tipo, Pinamonti che è un 99 e che arriva da una stagione da quasi 15 gol, sinceramente sotto i 20 milioni mi sembrerebbe un po' sprecato. Quindi mi auguro che quantomeno non si scenda sotto questa cifra, e poi arrivo alla provocazione che riguarda Alexis Sanchez e magari qualcuno l'ha già un pochino indovinato, tra virgolette. La mia provocazione è la seguente, Alexis Sanchez ha un ingaggio lordo di 9 milioni di euro abbondanti, lo sappiamo. Per l'Inter sono troppi, per un giocatore che viene ritenuto comunque valido, perché tecnicamente Sanchez è forte, nessuno lo nega, però vista l'età e vista anche per lui qualche acciacco fisico che spesso ha avuto, soprattutto in nazionale, 9 milioni sono tanti per un giocatore che ovviamente non è il titolare. Le ultime notizie però parlano di un Sanchez che oltre a considerarsi ancora uno dei top mondiali, e questo lo sappiamo, e vabbè dovrà capirlo lui di non esserlo più, più che noi di doverglielo ricordare, le ultime notizie parlano di un Sanchez che avrebbe addirittura rifiutato 5 milioni di euro, quindi più della metà dell'ingaggio lordo che percepisce, come buona uscita per lasciare l'Inter. E allora la mia provocazione è questa, se davvero Sanchez rifiuta i 5 milioni e si fa forte legittimamente di un contratto firmato e nessuno ha costretto l'Inter a far firmare questo contratto a Sanchez, quindi non è, secondo me, opportuno andare ad attaccarlo ed insultarlo. La colpa semmai è dell'Inter che al tempo ha deciso di fare questa cosa e lui giustamente adesso dà valore al contratto che ha firmato. Nel momento in cui rifiuta 5 milioni di euro è sensato andargli a offrire di più, arrivare a toccare i 6 o magari anche i 6 e mezzo per liberarsi di lui, cioè dargli quasi l'ingaggio completo per non averlo più a disposizione? Non credo, cioè sinceramente non credo che sia sensato. Io sono perfettamente d'accordo con l'idea che una quarta, quinta punta che costa 9 milioni lordi è assolutamente fuori mercato, cioè non può esistere una cosa di questo tipo. Però visto che la situazione è già questa, quindi non è tanto una scelta, la situazione è questa qui. Se ti si presenta l'opportunità di poterlo mandare via solo a fronte di 6 milioni, 6 milioni e mezzo di buona uscita, la provocazione che vi lancio è non conviene forse a questo punto tenerselo e tenerlo qui ancora per un anno, farlo andare via poi l'anno prossimo alla scadenza naturale del contratto e accettare che purtroppo la situazione che si è venuta a creare ti costringe a questo tipo di soluzione? Non lo so, questa è la provocazione che vi voglio lanciare. Magari a questo proposito se si decide di fare questo e quindi si tengono 5 punte di altissimo livello, si può lavorare ulteriormente con maggiore frequenza sul famoso tridente. Questo famoso 3-4-2-1 o più spesso 3-4-1-2 che abbiamo visto anche nelle scorse amichevoli, magari può diventare davvero una soluzione tra le prioritarie per l'Inter di Zaghi probabilmente a gare in corso, perché a quel punto avresti tanti attaccanti anche dalla panchina da poter valorizzare. È evidente poi, qui torno sul discorso economico, che prendere questa decisione significa innanzitutto poter tagliare molto meno il monte in gaggi perché la Dio di Sanchez era uno dei principali insieme a Vidal che avrebbe permesso il taglio del monte in gaggi. Però si può provare magari a riequilibrare innanzitutto non dovendosi tenere un altro quinto come un giovane che per quanto poco qualcosina ti costa e magari andando a risparmiare sul difensore che si sta seguendo Milenkovic costa 15 milioni per fare la panchina mi sembra anche un po' sprecato per quanto a me a Milenkovic piaccia. A quel punto mi tengo da parte a questi soldi investo su un giocatore molto più low cost di Milenkovic il mio colpo ideale sarebbe Zagadu ma adesso non vado ad approfondire perché parliamo dell'attacco. Sfrutto questa quota di milioni che risparmio sul difensore per turarmi il naso e tenermi Sanchez un altro anno gioco un po' più offensivo molto più spesso avendone la possibilità e poi l'anno prossimo dove peraltro scade anche il contratto di Dzeko ci ripenso se riesco a confermare Lukaku tanto meglio se Correa ha fatto una stagione buona ancora di più e poi si vede cosa fare però il concetto di base è spendere circa 6 milioni circa perché le cifre attualmente sembrano queste e per dovermi liberare di un giocatore che invece tenendolo me ne fa spendere 9 sinceramente mi sembra un pochino sprecato e quindi questa è la provocazione che vi voglio lanciare alla fine di questo episodio la domanda finale quindi è l'attacco dell'Inter è completo o serve altro sul mercato la mia risposta è che sì fondamentalmente al momento è completo è evidente che ci sono delle problematiche possibili delle incognite che riguardano soprattutto Dzeko e Correa ma come vi ho spiegato durante l'episodio sono convinto che la scelta di Lukaku vada anche in questa direzione cioè Lukaku è talmente forte mi fa talmente tanti gol e mi garantisce talmente tante partite che posso provare a coprire anche le lacune che gli altri due possono portare poi è chiaro se Lukaku si rompe e vabbè questo fa parte dell'imponderabile però il ragionamento secondo me è stato questo qui quindi investire ulteriormente in attacco non mi sembra esattamente la scelta migliore questa ragazzi era la mia opinione ora fatemi sapere nei commenti uno cosa ne pensate in generale sul contenuto e due cosa ne pensate della provocazione che ho volutamente creato in maniera un po' piccante per farvi scatenare nei commenti io leggerò tutti i commenti come sempre quindi vi invito a scriverli qui sotto vi invito anche a lasciare un mi piace al contenuto ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e a passare su www.passioneinter.club se volete unirvi al club di Passione Inter e continuare quotidianamente tutti i giorni a parlare di queste tematiche anche nei nostri gruppi privati su Discord per il resto se mi hai seguito fino a questo punto ti ringrazio e se mi stai seguendo in podcast ti lascio in descrizione il link ad un altro episodio che abbiamo pubblicato negli scorsi giorni che riguarda le liste la lista Serie A e la lista Champions League perché poi tutti questi discorsi vanno anche fatti rientrare all'interno di quella di quella questione e l'Inter qualche piccolo problema ce l'ha quindi link in descrizione per l'episodio sulle liste se invece mi stai seguendo su YouTube il link ti compare qua alla mia destra clicca e fammi sapere che ci sia Grazie a tutti.